La relazione tra Luca Onestini e Soleil Sorge sembra sia finita senza rancore. Almeno da parte di lei. In un commento pubblicato su Instagram poco prima della finale del Grande Fratello Vip, infatti, la modella ha svelato che avrebbe fatto il tifo per il suo ex fidanzato. All'extronista di Uomini e Donne ha augurato il meglio. Poco prima che andasse in onda la finale del Grande Fratello Vip 2017, una delle fan di Soleil Sorge ha commentato una foto della modella scrivendo «Stasera si tifa Luca. Nonostante tutto dovresti tifarlo anche tu e spero possiate chiarirvi civilmente nei prossimi giorni». La replica dell'ex fidanzata di Luca Onestini non si è fatta attendere. «Assolutamente. Lo dissi e lui per primo, gli auguro il meglio da questa esperienza e per il suo futuro». La relazione tra Soleil Sorge e Luca Onestini si è interrotta proprio nel corso del reality di Canale 5. La modella lasciò l'extronista di Uomini e Donne con una lettera nella quale si leggeva. «Ho continuato a difendere il nostro rapporto e oggi pago la mia ingenuità. Non mi è stato dato rispetto né da tuo fratello né da te. Ti è bastato poco per diffamare me e l'amore che dicevi di provare. Ad oggi non c'è stato nessuno tradimento da parte mia. Non ci saranno repliche, le tue offese non sono scusabili, la nostra storia finisce qui. «Continuerò a vivere a testa alta, frequentando chi voglio, circondandomi solo di persone degne di fiducia. Ti auguro di ottenere ciò che cercavi da questa esperienza». Luca Onestini si è classificato secondo al grande fratello Vipi sui social. Ha ringraziato quanti l'ho sostenuto. La serata è indimenticabile. Un ringraziamento speciale va a tutti voi che avete affrontato questa avventura insieme a me. Grande Danielone. Ora la scommessa va rispettata zucca rasata vai. E un bacione grande al mio pipistrillo. Chi se ne frega.